Pronto? Pronto Carlo? Sì. Bene, ah, senti Carlo, che voce a buo, ha fatto sì, ma ha fatto ridere Carlo, allora, senti Carlo, come stai, stai bene? Sto bene, sì. Ah, mi fa piacere, senti allora, visto che sta bene, ora ti do la notizia, ti do una bella, cattiva notizia, una bella, cattiva, una bellissima, una bella, una cattiva, una bellissima, una bella, una cattiva, una bella, una cattiva, prima quella bella o quella attiva? Dammi quella bella. Bene, allora ti do quella bella, quella bella come sta, te t'ha vinto un premio, sì, allora te t'ha vinto un premio, caro Carlo, ho vinto un premio, esatto, sì, va bene, alla lotteria lecca e trombi, sì, lecca e trombi, lecca, lecca, lecca e trombi, cioè, praticamente, ora ti spiego, no, un mio cliente, io sono un buchemagere, cioè io mi interesso di ciò, ho capito, allora io ho un cambio, giro per tutta la Toscana, no, anche, anche fuori Toscana, sono venuto alle two party, un signore, eh, praticamente è venuto a giocare a questo gioco, poi ha vinto un premio e mi ha detto, dice, io non lo voglio ritirare, perché non sono in grado, eccetera, lo, lo giro a Carlo e mi ha dato questo numero di telefono, ha capito? Sì, sì, allora, il discorso è questo, ti spiego, caro Carlo, come funziona questo gioco, funziona di molto, va di molto, pronto? Ma chi è? Allora? Pronto? Ma chi è questa voce dall'aldirà, dall'oltretomba? Ah, chi è la? Ascorta Carlo, si chiama Lecche e Trombi, perché io ho... Sì, Lecche e Trombi, sì, dieci ragazze, no? Che sono tutte nude dentro i campi, che sono... Sì, sì, certo, se vuoi fare quel lavoro lì, devono essere nude, no? Bravo, 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 allora, ci hanno i capezzoli ricoperti di nutella, sono venti capezzoli su dieci ragazze, tu quasi, no? Allora, sono su uno solo, sotto, cioè, alla nutella c'è scritto Trombami, Trombami, no? Sì, allora, uno spende centomila lire, dentro dentro e lecca un solo dei venti capezzoli, Se gli capita, Trombami, Trombami, si tromba e la ragazza, se non gli capita nulla, vuol dire che ho leccato un po' di nutella e un capezzolo Allora, questo tuo amico ha leccato il capezzolo giusto, e vengono fuori, Trombami, Trombami, sulla Marianna Ma gli è toccato a lui Tromba? No, perché lui ha detto, io ho la prostata, se non volevo solo per leccato un po' di nutella e di capezzolo Allora, dice, c'è Carlo, lo gira a lui, allora, te Carlo, ti ha vinto una Tromba con la Marianna, ti va bene? Ti ho capito Ti va bene? Eh, senti, siccome noi si passa oggi pomeriggio proprio dalla zona, con il campere, se io voglio, io sono una persona onesta nella mia grandessinità e nella mia disonestà, sono poverestissimo Allora, se devi ritirare questo premio, cioè venire nel mio campere e fare una bella Tromba con la Marianna E tra l'altro la più bella di tutti, la più buona, eh? Sì? Va bene? Con la Marianna, eh? La Marianna, sì che... Va bene, la Van Capanna, la Marianna, eh? La Van Campagna, la Van Campagna, la Van Campagna, è uguale? Sento una cosa, Carlo, allora, alle ore 17, noi siamo proprio sotto la satua, io parcheggi il campere, no? Te tu scendi di casa, tu lasci stare la moglie o te sta gente, le voci allarvi là, tu ti avessi molti vicini a casa, te sei un canzo, tu vieni giù e ti fa la safra, ti regalo anche il preservativo, senti che ti dico? Allora... A me non mi calma, non mi calma col preservativo, ti piace il contatto naturale, ma bene, fallo senza, ma sei sano? Si rischia anche la dieste, ma cosa fa? Ma chi se ne frega, chi se ne frega? Eh, ma chi se ne frega? Ma sei sano te, sei sano? Eh, bene, allora guarda, tu ci fai una frombà, alle 5 e scendi giù da casa... Ma... si ma... Oh! Ma lo fa totale o parziale? Totale? Totale o parziale? Totale! Ah, totale! Ah, ma ci manca la bella, che vuol dire parziale, scusa? Eh, che cosa vuol dire? E invece di farlo tutto, lo fai metà? No, a me, io conosco solo il totale, cioè quando si tromba e si deve trombare il totale, il parziale, i pezzettini, e te lo mette in tedoreo, e non mi piacciono a me, capirò? Bellissimo! Allora, che bisogna fare una cosa totale, con creamboli, lottamboli, le scintille, le faville o la fava! Le faville! Come? Canta, andata! Va bene! Fa fa va fa fa fa, come fa? Ti saluto! Ciao! Ciao, ci si vede alle 5! Sì! Preparatelo! Fai il bidet! Allora, vedi, lui è una persona...